Buonasera, anche questa sera vorrei parlarvi di un prodotto naturale che possiamo utilizzare per tamponare un pochino i sintomi delle nostre allergie e in particolare ho scelto l'essenza floreale di Malus Silvestris. Malus Silvestris non è altro che il nome botanico del melo selvatico, è un alberello che viene considerato l'antenato del melo che coltiviamo ai nostri giorni. Il Malus Silvestris in occidente viene utilizzato soprattutto per ornamento di giardini, praticamente non supera l'altezza dei 70-80 centimetri, ha un fusto di colore grigio-bruno, molto liscio in giovane età che via via crescendo tende a sfaldarsi. Presenta dei rami di base dai quali si dipartono dei rami secondari che spesso hanno degli aghi, quindi sono spiniformi. Ha la caratteristica di avere dei fiori che sono ermafroditi e sono riuniti in ombrelliforme, hanno dei bellissimi petali bianco rosati e sono molto profumati. Da questi fiori abbiamo poi il frutto che è una specie di bacca di colore rosso spiccato che è dolcissimo ma non è commestibile perché ci interessa il Malus Silvestris. Essenzialmente dal punto di vista fitoterapico andiamo ad utilizzare solo l'essenza di questi fiori, l'essenza floreale. Questa essenza floreale viene utilizzata per tutte quelle forme di allergia che scatenano poi eruzione cutanea. Funziona come un depuratore a livello fisico e degli emuntori cutanei. Cosa significa? Se sono allergico a dei pollini e questo mi causa di conseguenza un'allergia sulla pelle, quindi eruzione cutanee che possono essere più o meno pruriginose, Malus Silvestri ci può dare una mano. Stessa cosa l'allergia agli acari della polvere. Spesso e volentieri questa ci scatena delle allergie con delle chiazze rosse e secchezza cutanea nelle pieghe della nostra pelle. A questo punto Malus Silvestri potrebbe essere utile come essenza floreale disintossicante. Non ha effetti collaterali, può essere dato anche ai lattanti senza problemi. Il consiglio è rivolgetevi al vostro medico, al vostro farmacista di fiducia che vi preparerà la terapia personalizzata. Arrivederci e buona serata.